Il ruolo di internet nelle recenti ribellioni del mondo arabo è stato veramente cruciale e fondamentale da almeno due punti di vista. Il primo è che ha consentito il trasferimento al resto del mondo, al mondo occidentale, di informazioni, dati, immagini, filmati che non ci sarebbero mai arrivate a causa evidentemente del blocco dei media tradizionali che si è subito verificato in queste occasioni. Il secondo ruolo altrettanto importante è che grazie a questa piattaforma si sono potuti coordinare e organizzare i manifestanti, i tra virgolette ribelli. Ha giocato internet un importantissimo ruolo proprio nell'agevolare il coordinamento e l'organizzazione delle manifestazioni. Al di là di internet però è importante sottolineare il ruolo forse ancora più importante giocato dalla rete cellulare e dai telefonini cellulari. Quindi popolazioni molto giovani, elevata diffusione del telefono cellulare diventa per definizione il canale con cui questi giovani possono trasferire informazioni di varia natura. Il tema della censura di internet è un tema molto più diffuso e ampio di quello che tutto sommato in molti pensiamo. Basti pensare che una recente ricerca addirittura ha identificato, se non mi sbaglio 36 o comunque un numero di questo tipo, paesi in cui in qualche modo lo Stato, il potere centrale esercita una censura più o meno spinta sui contenuti pubblicati su internet. Cina, lo sappiamo, è uno di questi paesi in cui da più tempo oramai il governo centrale, il potere centrale esercita un chiaro controllo parziale sul mondo internet. Lo esercita in diverse modalità, formule bloccando completamente l'accesso ad alcuni siti web, ad esempio Facebook oppure eliminando dalla possibilità di ricercare sui motori di ricerca alcune specifiche parole chiave, keywords. In questo periodo, ad esempio delle rivolte nordafricane, la parola Egitto di fatto non dava nessun tipo di risultato nel web cinese. Nel mondo cinese, nell'internet cinese ci sono tanti siti web, tante zone in cui si cerca di raccogliere il parere, l'opinione, i contributi delle persone e per condividere anche concrete tentativi di protesta. E proprio di questi giorni diffondersi direi sempre di più della cosiddetta rivolta dei gelsomini che è una rivolta in realtà molto soft, come d'altra parte possiamo immaginarci. E proprio al suo centro sul web, sull'internet, i manifestanti definiscono attraverso internet quando e dove incontrarsi per poi manifestare il mondo fisico in maniera in realtà molto pacifista. Questa è una chiara dimostrazione come anche in un paese in cui comunque la censura su internet c'è, c'è e c'è, è importante, non può essere originato il ruolo di internet come catalizzatore di opinioni di opposizione nei confronti del governo e come catalizzatore anche di masse popolari che cercano di esprimere il proprio dissenso al regime anche se in modo tutto sommato controllato e soft come oggi è la protesta dei gelsomini.